Noi devi fare video. Mi chiamate e fa così. Sono i rivali uguali. Papino! 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 Mi chiamate e fa così. Nero, nero, fa così. Puccia. Fa così, papino. Puccia. 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 Grazie a tutti. 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 Ieri non siamo riusciti a fare anche 5 minuti, adesso guarda 4 minuti, tutto il contrario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.